Incontrare questi ragazzi è sempre un insegnamento e ci fa capire che è una strada che non dobbiamo lasciare, anzi dovremo senz'altro aumentare l'adesione delle aziende come aziende madrine, dobbiamo sollecitare le scuole e tutti gli insegnanti a divulgare questo progetto. L'obiettivo per l'anno prossimo è quello di raddoppiare le scuole partecipanti e le aziende madrine e quello di portare questi ragazzi verso un percorso di conoscenza della meccanica, della meccatronica che sia adeguato ai nostri tempi. L'entusiasmo che questi ragazzi ci trasmettono deve essere di insegnamento e soprattutto ci deve far capire che nonostante stiamo parlando di scuole primarie è il percorso giusto ed è il primo seme che dobbiamo seminare e piantare affinché nella scelta delle scuole superiori e delle università ci sia un'affezione verso il mondo della meccanica e della industria 4.0.